Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro Lucraimo che vi fa questo nuovo video glitch su G5 Online oggi vi porto un nuovo semi-money freeze molto molto semplice e che soprattutto possono fare tutti perché non richiede il salvaggio moddato quindi non richiede 6 wizard ed inoltre non richiede neanche lo step che si faceva nella modalità regista che era abbastanza complicato e lungo da fare e quindi uno step davvero fastidioso e che tante volte non funzionava questa nuova versione del glitch non richiede neanche quello step quindi davvero molto molto facile e vi consiglio di farlo prima che venga patchato questo glitch consente appunto di comprare tutti i veicoli del gioco tranne quelli Pegasus e i veicoli speciali totalmente gratis quindi senza spendere neanche un dollaro del vostro account quindi appunto vi consiglio assolutamente di farlo prima di cominciare vi ricordo di contattarmi su Telegram se vi serve un account moddati aggiunta soldi direttamente nei vostri account oppure salvataggi moddati per fare il semi-money freeze chioccio a Lucraimo iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per ricevere le notifiche su tutti i video glitch che pubblico su G5 Online e lasciate un bel like per supportarmi vi ricordo anche di condividere questo video con tutti i vostri amici per far sapere anche a loro di questo glitch e di passare dai vari social i link li trovate sempre qua sotto in descrizione per rimanere sempre a giornale soprattutto gruppo e canale Telegram quindi adesso partiamo subito con i requisiti per fare questo glitch in realtà c'è solo un requisito cioè di avere dei soldi in banca quindi se avete dei soldi sul vostro personaggio principale che usate normalmente per giocare dovrete averli in banca quindi dovete depositarli andando sul sito della banca appunto e depositate i soldi che avete in contanti questo perché con questo glitch sfrutteremo il secondo personaggio perché dovremmo sfruttare il fatto che i soldi in banca sono condivisi tra il primo e il secondo personaggio mentre i soldi in contanti no quindi un altro requisito è appunto non avere nulla sul secondo personaggio perché noi ogni volta che facciamo questo glitch dobbiamo cancellare e ricreare il secondo personaggio quindi perdendo tutto quello che c'era all'interno quindi vi consiglio di non avere nulla sul secondo personaggio se avete qualcosa sul secondo personaggio purtroppo non potete fare questo glitch perché appunto perdereste tutto ed è meglio che fate l'altro che è stato pubblicato un po' di mesi fa quindi iniziamo subito con la spiegazione del glitch prima cosa partite dal vostro primo personaggio, il vostro personaggio principale controllate ovviamente di avere i soldi depositati in banca quindi ovviamente se li vedete in alto a destra nella seconda riga vuol dire che sono depositati in banca quindi siete a posto una volta che avete controllato di averli in banca andate su option online cambia personaggio quindi arrivati sulla selezione del personaggio se il vostro secondo personaggio, cioè quello che sta sulla destra, non è stato creato createlo, quindi premete X sul secondo personaggio se invece ce l'avete già creato dovete cancellarlo premendo quadrato e poi ricrearlo mi raccomando fate attenzione il personaggio selezionato è quello con la cartellina alzata quindi appunto voi create il personaggio se vi chiede di trasferire il rango del primo personaggio premete assolutamente sì perché tanto non perderete il rango sul primo semplicemente ve lo copierà quindi fate assolutamente sì a questo messaggio e semplicemente fate quando siete sulla creazione del personaggio salva e continua non modificate l'aspetto tanto è un personaggio che poi quando ripeterete il glitch lo dovete cancellare quindi non serve fare un aspetto particolare quindi appunto fate salva e continua accettate tutti gli avvisi ed entrate finalmente online una volta che sarete online essendo che sarete in sessione pubblica attivate la modalità passiva rischiate che qualcuno venga ad uccidervi e che il glitch non vi funzioni quindi attivate la passiva per sicurezza e controllate se vi hanno regalato un appartamento perché di solito quando create il secondo personaggio vi viene regalato un appartamento di lusso con 10 posti nel garage nel mio caso vedete basta che andate sul menu interazione su rientro e vedete io avevo un appartamento col garage annesso se non ve l'hanno regalato dovete acquistare per forza voi un appartamento acquistatelo chiaramente a seconda di quanti veicoli prevedete di acquistare se prevedete di acquistare tanti veicoli acquistate un appartamento da 10 posti di garage se prevedete di acquistarne pochi acquistate un garage da 2 veicoli ovviamente acquistate i meno costosi perché tanto poi il personaggio lo perderete quindi non ha senso comprare appartamenti costosi quindi adesso che avete l'appartamento possiamo iniziare ad acquistare i nostri veicoli io vi acquisterò 3 deluxe che sono i veicoli che valgono di più alla vendita tramite questo glitch voi acquistate i veicoli che volete a seconda della vostra disponibilità di soldi vi ricordo che però questo glitch non funziona con i veicoli Pegasus e con i veicoli speciali sia del CEO sia tipo dell'Arena eccetera tipo l'Arsy Bandito, il Wastelander, tutti i veicoli così con tutti i veicoli del genere questo glitch non funziona quindi fatelo solo con veicoli che potete scambiare di posto quindi che potete mettere in sostanza nei garage normali quindi fatelo solo con quei veicoli lì quindi acquistate diciamo dei veicoli normali potete farlo anche con aerei e elicotteri a patto che acquistiate l'hangar su questo personaggio perché tramite l'hangar potrete scambiare di posto e quindi salvarli ovviamente vi spiegherò più avanti nel video come si salvano i veicoli quindi iniziamo ad acquistare i veicoli quindi io vado su Warstock nel mio caso perché voglio acquistare dell'Axo per poi farci soldi rivendendole voi potete acquistare tutti i veicoli che volete tranne quelli che ho citato prima quindi appunto andiamo sul veicolo che vogliamo acquistare e premiamo su acquista e vedete che ci darà l'acquisto completato io adesso ne acquisto altre due quindi premo cerchio e le acquisto di nuovo quindi appunto ne acquisto tre e una volta che avete acquistato tutti i veicoli che vi interessano vi fermate sulla schermata di articolo venduto quindi vi fermate su questa schermata e andate sulle impostazioni della vostra console poi andate su rete togliete la spunta su connettiti a internet e poi la rimettete ritornando al gioco vi darà impossibile connettersi alla sessione di gioco ritorno alla storia voi accettate il messaggio tra l'altro vi ricordo che nel passaggio precedente non dovete chiudere mai il telefono quando state acquistando i veicoli se chiudete il telefono perdete tutti i soldi che avete già speso quindi fate attenzione a questo dettaglio tornati nella storia fate option online sessione solo ad inviti una volta ritornati online sarete sul secondo personaggio vedete che riavete i vostri soldi quindi appunto io avevo speso un po' di soldi perché ero rimasto con più o meno 50 milioni dopo aver acquistato i veicoli ero rimasto con 50 milioni circa se avete notato e adesso quando sono rientrato online ho di nuovo i miei 68 milioni quindi il gioco mi ha ridato i soldi e se chiamo il meccanico avrò ancora i veicoli acquistati questo significa che il glitch ci è funzionato correttamente adesso potete fare varie cose io come sempre vi ricordo di salvare i veicoli adesso vi spiego come si fa quindi per salvare i veicoli andiamo semplicemente nel garage in cui ci sono questi veicoli e andate al pallino blu della selezione per spostarli e appunto selezionate il primo lo spostate con il secondo il secondo con il terzo e via dicendo per tutti i veicoli che avete dovete spostarli uno ad uno di posto una volta aver fatto ciò chiudete il menu e cambiate un accessorio oppure cambiatevi di abito in modo che vi esca il cerchiolino giallo in basso a destra così vuol dire che avrete forzato il salvataggio del gioco e quindi questi veicoli sono vostri e rimarranno lì per sempre in alternativa potete anche vendere i veicoli prima di salvarli però fate attenzione al blocco vendite vi ricordo di vendere un veicolo ogni ora massimo 3 al giorno ogni ora ovviamente reale non di gioco massimo 3 al giorno onde evitare un blocco vendite temporaneo perché se venderete tutti i veicoli insieme appunto prenderete il blocco vendite quindi il mio consiglio è di salvarli e venderli piano piano tenetevi queste deluxo come una banca io vi ricordo tra l'altro dopo averli venduti di depositare i soldi perché se terrete i soldi in contanti quindi adesso vedete io sono andato allo Santos Custom a vendere questa deluxo che mi vale 2.800.000 e mi da i soldi in contanti dovete andare sul sito della banca e depositare i soldi se non li depositate quando cancellate il personaggio avete perso anche i soldi perché i soldi in contanti rimangono solo sul personaggio mentre i soldi in banca sono condivisi tra i due quindi appunto ricordatevi di depositare i soldi per continuare con il glitch e acquistare altri veicoli dovrete ripetere tutto da capo e tra l'altro dovete ovviamente rieliminare il personaggio perché questo glitch funziona solo la prima volta che create il personaggio quindi il video di oggi in sostanza si conclude qua io spero che vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile se così è stato iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ragionarsi su tutti i glitch che pubblico su G5 Online e lasciate un bel like per supportarmi vi ricordo anche di contattarmi su Telegram per account moddati c'è tanta disponibilità contattatemi per informazioni aggiunta soldi direttamente nei vostri account i prezzi sono molto molto bassi salvataggi moddati per fare il semi money freeze quello di qualche mese fa se vi ricordate quindi io vi ricordo anche di condividere questo video con tutti i vostri amici per far sapere ancora di questo glitch e seguirmi sui vari social tutti i link in descrizione per restare sempre a giornarti su tutti i glitch che pubblico su G5 Online in caso non vi arrivino le notifiche e mi raccomando soprattutto il gruppo il canale di Telegram per trovare anche altre persone con cui giocare scambiare eccetera io vi ringrazio per la visione e la vostra come tutto bella che vi ringrazio per la visione